La mia opinione è che si possono creare personaggi solo dopo aver studiato a lungo gli uomini, così come non si può parlare una lingua senza averla imparata seriamente. Non avendo ancora raggiunto l'età in cui si è in grado di inventare, devo accontentarmi di narrare, quindi esorto i lettori ad essere convinto della realtà di questa storia, in cui tutti i personaggi, salvo l'eroina, sono ancora vivi. Inoltre, a Parigi ci sono dei testimoni oculari della maggior parte dei fatti che racconto qui e che potrebbero confermarli se la mia testimonianza non fosse sufficiente. Per una circostanza particolare, solo io potevo descriverli, perché solo io sono stato il confidente degli ultimi dettagli senza i quali sarebbe stato impossibile scrivere un racconto che fosse un insieme interessante e completo. è la mia opinione che solo possiamo creare personaggi dopo studiare lungo gli uomini, così come non si può parlare una lingua senza l'e studiare seriamente. Non tendo ancora alcançato la idade in cui l'individuo ha la capacità di inventare, devo me contentare narrando. Quindi, esorto il lector a essere convencido della realtà di questa storia, in cui tutti i personaggi, salvo l'eroina, ancora vivi. In cui, in Paris, ho testemunhiato oculare da maggior parte dei fatti che sto riunendo qui e che potrebbero confermarli se il mio testemunio non fosse sufficiente. Per una circostanza particolare, solo io potrebbero descrivli, perché solo io ho stato il confidente dei ultimi dettagli, senza cui sarebbe impossibile scrivere un relato che fosse simultaneamente interessante e completo.